Sono quattro i nuovi casi accertati di positività al covid-19 nella nostra regione dopo l'analisi dei 499 tamponi analizzati, 0,8% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 17 su un totale di 1.294 tamponi analizzati, 1,3%. Dunque l'Abruzzo sale a 3.107 casi dall'inizio dell'emergenza. 231 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 9, meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.369, meno 59 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 366 pazienti deceduti, più 7 rispetto a ieri. 1.132 sono i dimessi e i guariti, più 59 rispetto a ieri, di cui 226 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associati al Covid-19 sono diventati asintomatici e 906 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 1.609, con una diminuzione di 62 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 48.903 test, di cui 43.221 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 243 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 772 alla ASL Lanciaro-Vastocchieti, 1.448 alla ASL di Pescara e 644 alla ASL di Teramo. I quattro casi di oggi invece si riferiscono alla sola ASL di Pescara. Non si registrano positività invece nelle altre tre ASL.